Buongiorno ragazzi, dove andiamo stamattina? Stamattina a Madonna della Civita, nel Lazio Kilometri? Intorno ai 190 chilometri Ora ti arrivo, non so Beppe, Beppe, per te qualche chilometro in più Nei 180 Io non mi sono fatto più di 130 Ti sei fatto? Beppe, allora che vuoi fare? Vuoi morire? Oggi secondo me mi sono cucinato a un mistero Oggi si dovrebbe essere rabbinati a presto Vedi, appena i primi seguiti di cedimento Putti un seguito dentro Perché se lo fai dopo sarà molto affollato Vabbigato E' un'altra cosa? Non c'è tanto? 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 Come vai? Dove sei andato a fare questo cedro? Ho fatto un giro di mozzarella Grazianese Senta Manuela posta Capua Tutta la fischia Volevo riposare diciamo Volevo veramente Volevo uscire un po' così Però può Non immaginavo Non immaginavo Vabbò Ci vediamo dopo 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 Volevo Dove essere abbastanza riposato E E aver scaricato tutta la fatica Nell'uscita di Cassini Esattamente L'ho portato Fino a martedì In le cammini Volevo tornare Stavamo Spendiamo di fare una bella passeggianza Vabbè Ci facciamo sesto oggi Sesto e speriamo che vada un pochino ok, bocca al lupo a capo non c'è il cornetto in buco c'è un'altra cosa già è seguito? oh the passenger how how it rides oh the passenger